giovedì 30 marzo ben trovati a ieri oggi nel 39 l'aereo da guerra tedesco einkel raggiunge la velocità di 746 chilometri all'ora ottiene così il record mondiale di velocità siamo nel 45 seconda guerra mondiale forze dell'unione sovietica invadono l'austria e conquistano la città di vienna nel 76 da uno degli sceneggiati più celebri della storia della tv trasmesso dalla rai arriva in classifica il brano degli oliver onions sandokan 1987 il famoso dipinto dei girassoli di vincent van gogh viene venduto per circa 40 milioni di dollari per gli spettacoli di oggi ricordiamo stasera il concerto di mario biondi al teatro geox di padova ed è tutto per ieri oggi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti